Buongiorno, mi chiamo Diego Motto e mi occupo della gestione dell'M8 Studios, che è uno studio fotografico e video in Cernusco sul Naviglio. Abbiamo ereditato questa struttura che in passato era Arnoldo Mondador editore. Ci occupiamo prevalentemente di eventi, sciunti fotografici e video e disponiamo di questa enorme metratura in funzione di teatro di posa. Abbiamo scoperto attraverso il gruppo Comunicare il Puduobo, che ci è sembrato subito interessantissimo, perché oltre che essere gradevole alla vista è proprio anche utile. L'abbiamo già sperimentato perché appunto rispetto al nostro settore siamo molto aperti all'innovazione tecnologica e lo abbiamo proprio messo alla prova direttamente nei nostri studi. Lo utilizziamo principalmente in questo momento per la consegna delle situazioni piccole di attrezzatura, ma avendo dei cestelli molto capienti e anche protettivi riusciamo a portare prevalentemente le camere, quindi tutto quello che è macchine da presa. È molto interessante anche dal punto di vista della privacy, nel senso che siccome noi facciamo all'interno degli studi shooting pre, quindi tutto quello che viene realizzato qua non può essere spoilerato perché altrimenti sarebbe appunto un disastro. È molto interessante che su alcune cose possa entrare direttamente lui in studio, possa consegnare senza la presenza di una persona che potrebbe in qualche modo interferire nel sviluppo del lavoro. Abbiamo avuto un bellissimo riscontro e siamo contenti rispetto anche ai nostri clienti che oltre alla simpatia hanno apprezzato anche la praticità. Comunque noi 20 sicuramente li compriamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.